Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Eh, questo ha detto. Innanzitutto mi lasci dire che trovo molta confusione nel segretario del Partito Democratico, sia nella comunicazione, perché dice, poi contraddice, poi dice dei numeri, poi ritorna indietro, poi c'è un rischio democratico, poi il rischio democratico non c'è. Mi sembra la confusione di chi, mi permetto di dire, non ha il coraggio di guardare al Paese e di fare delle proposte chiare. Letta vuole convincere l'elettrice e gli elettori a votare Partito Democratico, li convinca che votando Partito Democratico non ci sono quelle contraddizioni che invece sono evidenti a tutti, perché se noi dobbiamo guardare, faccio un esempio molto concreto, parleremo poi di energia, al tema della necessità di gestire riscaldamento, energia dagli ospedali alle case, alle imprese, servono alcune cose. Una di queste si chiama rigassificatore di Piombino. Il Partito Democratico sfida in piazza contro il rigassificatore, Letta dice facciamolo, Bonelli con cui si è alleato dice non facciamolo, quindi c'è tanta confusione. Legge elettorale. La legge elettorale, si dimentica Enrico Letta, che non solo è stata la legge che è stata votata a voto segreto dalla più alta maggioranza nella storia della nostra Repubblica, ma noi certo non è che la difendiamo a priori. La proposta di Matteo Renzi, quando era al governo, era all'Italicum. Poi è arrivato il governo Gentiloni, il Partito Democratico, allora guidato Matteo Renzi, ha fatto una proposta chiara, quella di un proporzionale con lo sbarramento al 5%, che per un difetto di gestione dell'Aula si è visto da chi è stata boicottata, cioè dalla parte della sinistra del PD e di Leo, che è esattamente la parte che in questo momento oggi sta governando il PD insieme a Enrico Letta, quindi insomma mi asterrei da queste facili accuse. Voto utile. Il voto utile oggi è portare in Parlamento qualcuno che abbia la competenza, la chiarezza delle risposte, la concretezza delle risposte, cosa che non c'è a sinistra, cosa che, mi permetto di dire, altrettanto non c'è a destra. A destra si vede già al governo, già con l'auto in carico, da parte di Giorgia Meloni. Io penso che gli italiani abbiano invece la possibilità oggi di mettere in campo una visione differente che noi vogliamo rappresentare. Devo andare in pubblicità. Ah, vabbè, la domanda su...